E tanta gente sta facendo visita in queste ore ai propri cari, ai defunti, in queste celebrazioni dei santi e dei morti del primo e due novembre, non più celebrazioni nel tendone della chiesa del cimitero perché è tornata fruibile appunto la chiesa che si trova qui vicino al cimitero monumentale dell'Aquila, tantissime persone che stanno facendo fila anche per acquistare fiori da lasciare ai propri cari e ci sono meno restrizioni rispetto allo scorso anno per quel che riguarda la visita nei cimiteri e anche nelle giornate di domani i sacerdoti potranno fare direttamente le messe proprio all'interno dei cimiteri in città e nelle frazioni. Tanta gente nel cimitero monumentale dell'Aquila questa mattina per le visite ai defunti. Nella solennità dedicata a tutti i santi sono state anche tante le celebrazioni nelle parrocchie cittadine, tutto ordinato e tranquillo anche grazie all'ordinanza del comune in vigore per tutta la giornata di oggi, attiva da ieri, che permette alle persone di poter parcheggiare nel parcheggio antistante lo stadio Gran Sasso e Tola Concia che normalmente viene utilizzato per gli autobus e ad accogliere i fedeli c'è la chiesa di Santa Maria del Soccorso, annessa al cimitero, non più celebrazioni nelle tende perché da maggio del 2019 questa chiesa dopo un importante restauro è tornata agibile e fruibile. I sacerdoti nelle varie omelie hanno invitato le persone a pregare anche per gli ultimi, per tutti coloro che nei cimiteri sono dimenticati. All'Aquila c'è un pensiero in più perché si ricordano anche tutte le vittime del terremoto e anche quella del Covid, visto che la pandemia è tutt'altro che passata. C'è chi poi mette delle intenzioni particolari, come la parrocchia di Pizzoli, che prega in particolar modo per Daniele, un giovane rimasto coinvolto in un incidente stradale tempo fa e le cui condizioni non sono ancora buone. Quest'anno, a causa della pandemia, sarà possibile inoltre ottenere le indulgenze per i defunti per tutto il mese di novembre, in queste ricorrenze che sono molto sentite dalla gente, proprio per evitare assembramenti e troppe persone nei cimiteri.